il percorso è favoloso da tanti anni che lo faccio io la prima volta l'ho fatto nel 2003 2004 ho partecipato spesso alla gara di cerano al bosco di cerano è sempre stato interessante correre correre in questo bosco e le discese sono spettacolari è bello perché poi tutte le discese sembrano diverse tu non memorizzi il percorso più giri più perdi l'orientamento più ti stanchi e più le discese di diventano delle sorprese ogni volta sembra che sta facendo una discesa nuova perché ogni discesa che c'è e ce ne sono tante si presentano diciamo sempre come una novità e questa cosa è fantastica non si percepisce in tutti i percorsi le salite sono belle sono belle c'è saldi le salite pedalabili tranne una ma quelle pedalabili sono belle perché ti spaccano e anche quelle nasce l'incognita praticamente tu arrivi ai piedi di questa salita e dici ma ce la farò sì se ti concentri assumi una buona posizione di in sella di guida riesce a sprigionare la forza e a salire quindi tranne una quella che non si saliva che non si saliva che si c'era il tratto a piedi ma anche quella è fantastica non bisogna toglierla è bello anche fare il tratto a piedi perché anche alle gare di campionato del mondo ci sono dei tratti a piedi e guai se non ci fossero i tratti a piedi perché significa che l'essere umano deve spingere deve saper salire talmente bene talmente forte che c'è qualcosa di più grosso di lui quindi se qualcuno non è salito e nasce la sfida per migliorare negli anni per cercare di migliorare la bicicletta la postura la spinta eccetera il peso del ciclista eccetera eccetera quindi la gara è fantastica è bellissima e la gara è favolosa riconfermato lo stesso percorso il prossimo anno ed è stupendo grazie a tutti grazie a tutti